Il personaggio della settimana, Dream Team Calcio 5, Daniel Calaraso. Allora Daniel, siamo pronti per questa semifinale? Purtroppo sì. Come purtroppo? Siamo arrivati fino a qua, dobbiamo fare il meglio. Mancano due partite. Vediamo cosa si riesce a fare. Sì, sì, è il primo anno, speriamo di fare bene, se no al prossimo. Parliamo un po' di te, dai, il tuo curriculum sportivo. Curricolo? È un atto da bambino. Carriera? Un po' diciamo, diciamo, serie Ciro, mania, se vuoi lì là. Ho cominciato da giù, come tutti i bambini, e alla fine sono arrivato qua a 5. Rolo? Un ruolo difensore centrale. E adesso giochi in avanti invece, no? No, no, sempre in difesa, magari se posso salire. Le tue caratteristiche tecniche? Qua è dura, non lo so, forse la grinta e magari recupero un po' di più di pale, non lo so. È il tuo peggior difetto come giocatore? Eh, peggiore, non lo so. A volte arrivo troppo stanco dal lavoro e non faccio niente. Gli riflessi non ci sono. Senti, la tua passione per il calcio come è nata? Per il calcio a 5? In generale. Da piccolo. Tradizione di famiglia? No, no, non ce l'ho nessuno in famiglia. Da piccolo, diciamo. Guardando i tv e basta. La tua più bella soddisfazione da giocatore? Tra 5 sono tanti. Facciamo turneri, vinciamo con la squadra, diciamo che sono quelli, no? Ti ispiri a un campione in particolare? Campione? No. Un giocatore professionista? Diciamo, eh. Se sono uguale in Italia, diciamo Kivu, no? Kivu? Allora tifferai la squadra che tiffi l'Inter? Milan? Milan per forza, fino alla fine. Senti, il tuo obiettivo di questa stagione? Arrivare sicuramente alla fine? Sì, arriviamo e per forza anche vincere, se possiamo. Noi ci mettiamo tutta e come va, va. Senti, il tuo compagno più forte di squadra chi è? Più forte, sono tutti. Diciamo che la squadra senza uno non va. Non gira? Così penso. Il più scarso non ce l'avete. Qua non ci sono, la Dream Team non ci sono. Il più simpatico? Simpatico, il portiere. Portiere? Possiamo fare anche il nome? Sì, Luciano Oprea. È il meno simpatico? Non ce l'abbiamo, purtroppo no. Quando perdiamo... È una famiglia, siete tutti legati? Sì, sì. Senti, un episodio divertente accaduto nella tua squadra? Posso dire adesso di recente, abbiamo fatto una guigliata domenica e siamo stati tutti insieme a divertirci. Noi anche qua, anche fuori, siamo lo stesso. Sempre ci divertiamo. L'ultima domanda, il tuo sogno nel cassetto, dai. Lo scudetto Sportland? Scudetto Sportland, arrivano dieci ore di calcetto, adesso andiamo a fare la Cessena campionato nazionale, no? E vincere anche lì. Bene, dai, ti ringrazio, ti lascio andare a scaldare. Buona partita, eh? Ciao, Dani.